I temporali si sviluppano in tre fasi. Durante la fase di cumulo, le correnti ascendenti spingono verso l'alto aria umida e instabile. Quando l'aria si raffredda, il vapore condensa e cede calore, spingendo ancora più in alto l'aria e creando cumulo nembi a torre. La pioggia inizia durante la fase di sviluppo totale, in cui si hanno le manifestazioni più violente, come lampi, grandine e turbolenza rilevante. Nella fase di dissolvimento, compaiono forti correnti discendenti che esauriscono l'energia del tempale e spargono intorno nubi frammentate.